ecco a voi signori e signori il secondo della giornata e voilà eccolo qua Ma cosa si stai facendo che cosa si stai fatendo Non vediamo la prima stagione come se tu stai fatendo E' un po' vazio fatto Con la cura del canto di qua Quante legge spara di che soltate la mia Che avete sparato? D'accordo, Massimo l'ho sparato e l'ho pigliato. Bocca a capa, vedete il numero 3. Allora questo è il secondo della giornata, stasera faremo il terzo e il quattro. Così facciamo uno ciascuno. Se c'è qualcuno che ci vuole male, ha la faccia sua. Lo sai che cos'è? Sperno sempre il loro. Non ti danno la soddisfazione. Non lo so, non lo so, non lo so.